Cresce la protesta contro il radar di Potenza Picena. Nonostante ARPAM e Marina Militare gettino acqua sul fuoco, è polemica dopo il convegno in città con alcuni tecnici che hanno illustrato dati e teorie. Vediamo. Non basta e non convince la recente indagine epidemiologica che l'ARPAM aveva presentato a febbraio scorso sullo stato della salute dei cittadini di Potenza Picena e nella quale non si rilevano particolari criticità. La gente non è convinta, è stato detto nel corso del congresso tenutosi nella cittadina avente per oggetto radar, radiofrequenze e rischi per la salute. Ed i dati internazionali dicono altro. Atmosfera calda dunque con una conclusione che getta benzina sul fuoco delle polemiche. È appurata, secondo i tecnici presenti, la correlazione statisticamente significativa tra l'esposizione a radar e campi elettromagnetici e l'aumento del rischio di tumore, infarto e ictus e gravidanze interrotte. Questa è la sintesi dei risultati degli esperimenti condotti dal dottor Fiorenzo Marinelli, biologo ricercatore del CNR di Bologna. Il convegno ha fatto il punto sulle conoscenze scientifiche riguardanti i rischi per la salute connesse all'esposizione a radar e più in generale ai campi elettromagnetici di radiofrequenza. È stato inoltre illustrato il caso specifico della città di Potenza Picena. Da oltre 30 anni, infatti, è installato a Potenza Picena un potente radar militare della Nato, sospettato di essere la causa di alcune patologie nella popolazione locale, in eccesso rispetto alla media secondo i promotori del convegno, nei limiti statistici secondo l'ARPAM regionale. Attraverso gli esperimenti del dottor Marinelli è stato ricordato, è possibile osservare che cellule coltivate in zone esposte a segnali radar presentano alterazioni della vitalità e un'attivazione genica caratteristica che può portare a danni alle cellule. Quasi scontata la conclusione del convegno, il radar di Potenza Picena non si può considerare sicuro per la salute pubblica e se ne richiede lo spegnimento.